Tempo di giunta regionale. Mario Oliverio, dopo la festa per il consenso ottenuto, pensa già alla sua squadra di governo. Per mettere a punto un'agenda che consente di arrivare all'esecutivo nel più breve tempo possibile, ieri il neopresidente della regione ha riunito i fedelissimi alla mezza terme. Le modalità da seguire per arrivare a definire l'assetto della giunta è stato il tema centrale della discussione. Oliverio vorrebbe nominare sei assessori, tutti esterni. Lo statuto prevede però che si arrivi almeno per il momento al massimo a tre. Ai consiglieri nominati assessori verrebbe addirittura imposto di firmare le proprie dimissioni. Tra i nomi che iniziano a circolare spiccano quelli di alcuni docenti universitari. In pole position sembrerebbero Antonio Viscomi, docente di diritto del lavoro all'Università Magna Grecia di Catanzaro, ed il professor Ettore Iorio, docente di diritto amministrativo all'Unical di Rende. Quanto alla politica, Vincenzo Antonio Ciconte potrebbe diventare il presidente del consiglio regionale. Per il votatissimo Carlo Guccione si attende un ruolo di rilievo ancora da definire. Le aspettative insomma non mancano da nessun territorio. Gli equilibri non saranno semplici però da mantenere. Resta da definire per ora anche il perimetro della maggioranza. Al momento l'apertura al nuovo centrodestra dei Gentile sembra allontanarsi sempre più, anche se da Cosenza il monito del senatore Bruzzo è già arrivato con l'obiettivo di aprire il dialogo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.